Allora, prima di dare la linea a San Nicola, alla cooperativa Frantoio, professore Martelli, volevo far concludere a lei il pensiero, cioè che cosa bisogna fare? Nella zona infetta, eradicazione totale? Allora, questa fascia di un chilometro di profondità, che è nella zona infetta, lì si deve intervenire in maniera drastica, purtroppo anche sulle piante di oliva. Nella fascia che immediatamente è adiacente, che è stata denominata zona cuscinetto, lì non si abbatte niente, perché dovrebbe essere una zona sana e di conseguenza non si abbattono gli olivi, ma piuttosto si agisce sulla vegetazione, erbacce, arbusti, eccetera, che sono ospiti del batterio. Perché di lì si diffonde. Esattamente, è ospiti anche del vettore, quindi si agisce su quelli per togliere al vettore da mangiare, tanto per intenderci, e poi si può agire sul vettore con dei trattamenti, trattamenti che non devono essere necessariamente chimici, ma possono essere anche con dei bioprodotti. Quindi cercheremo, la regione Puglia, sono i servizi vitosanitari che studieranno i prodotti migliori, quelli che inquinino di meno e che diano quindi meno fastidio. Quindi questa seconda fascia, a ridosso della zona di eradicazione, 2 km di profondità, non si abbatte nulla. Nella zona Cuscinetto, scusate, nel cordone fitosanitario, è stato definito così, che è a una decina di chilometri al di sopra degli ultimi focolai trovati, che sono intorno a Trepuzzi, Surbo, bene, in quella zona esattamente non si abbatte niente, ma si fa esattamente la stessa cosa che si fa nel secondo cerchio. Esattamente, quindi intervento contro i vettori, intervento contro gli ospiti alternativi dei vettori. Ma gli olivi, che devono essere sani, in pratica l'abbattimento riguarderebbe soltanto il cuore, quindi una piccola zona, piccolissima zona rispetto al fenomeno complessivo. E verranno abbattute soltanto le piante infette. Se in quella zona, in quella fascia di un chilometro, ci sono delle piante non infette, quelle non verranno toccate, verranno monitorate e se si dovessero ammalare verranno. Sentiamo a San Nicola se condividono queste impostazioni. Stefania. Assolutamente no, direttore. Infatti questa argomentazione ha creato, innescato un dibattito tra gli stessi produttori e ci sono delle domande, tra cui una in particolare che si vuole dirottare al professore in studio. Qual è? La mia domanda è al professore Martelli. Ma sui 16.000 campionamenti effettuati, quant'era in realtà la presenza del batterio? Questo perché ci sono due documenti, sicuramente il professore Martelli riconosce meglio di noi, uno ufficiale e l'altro ufficioso. Quello ufficiale è il report ancora parziale di febbraio del 2013, pubblicato sul sito della Commissione europea, dove c'è scritto che su 1.757 campioni solo 20 avevano la presenza del batterio. L'altro invece è quello redatto dalla dottoressa Percoco, dove si parla su 16.000 campioni 99 alberi con la presenza del batterio. Qui vediamo un'ecatombe, quindi se la presenza del batterio è inferiore al 0,9%, effettivamente che cos'è che sta facendo essiccare i nostri ulivi? Professore. Allora, sul 100%, ripeto, 100% delle piante ammalate c'è il batterio, 100%, e non si tratta di 10, 15 o 20 campioni, si tratta di alcune migliaia di campioni. E quindi il dato dell'Unione europea è sbagliato, è falso, della regione anche? No, 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 un attimo. Questo si riferisce al monitoraggio che è stato fatto e che ci è stato richiesto dalla comunità europea e che è stato fatto soprattutto nelle zone a nord della zona infetta, soprattutto ai limiti delle province di Brindisi. Quindi non nel cuore del problema. Esattamente, perché interessava alla comunità sapere esattamente quali erano i limiti di diffusione della malattia. E abbiamo fatto indagini con campioni raccolti sia nella provincia di Lecce verso nord che nella provincia di Mitrofe, Viniciatarato, e non soltanto, sono state fatte anche nel resto di Puglia. Quindi quel dato che ci veniva sottoposto da San Nicola riguarda non la loro zona, non riguarda il loro problema. Esattamente. E allora che ci sta a fare come dato di... Esattamente. Però sul documento c'è scritto Gallipoli, Copertino. Prego? Sul documento c'è scritto Gallipoli, Copertino. Non solo, si parla anche di un rischio di contaminazione perché gli esami sul genoma, quelli, insomma, sui prelievi, venivano fatti sotto la stessa cappa per cui c'è scritto dai commissari europei che c'era un forte rischio di contaminazione, quindi potrebbero anche non essere reali quei dati. Allora, a questo punto, abbiate pazienza, due sono le cose, o si crede a quello che ci dice oppure non ci si crede. Si cerca di fare... No, abbiamo la coerenza. No, io mi chiedo ai commissari europei. Abbiate pazienza. Questa cosa che dice la signorina, riportata alla comunità europea, io questo non l'ho letto da nessuna parte, quindi mi farà poi il favore di mandarmi questo documento affinché mi possa documentare. È pubblicato sul sito della Commissione europea, quindi pensi... Mi mandi per favore questo documento. Per quanto riguarda le contaminazioni, abbiate pazienza. Noi abbiamo un'esperienza di 30 anni ormai di indagini, anzi, come indagini in laboratorio partendo con la sierologia abbiamo 50 anni di esperienza. Per quanto riguarda invece l'esame molecolare abbiamo 25-30 anni di esperienza, d'accordo? E posso assolutamente garantire che noi contaminazioni non ne abbiamo. I nostri dati sono dei dati effettivi, reali, che sono visionabili e... Sì, sì, lo scrivevano i commissari europei, non noi. Assolutamente da tutti, da tutti. Professore, ma se la xylella continua ad estendere il proprio raggio, no? Come fa a non esserci contaminazione? Come cresce la malattia? No, no, quello che dice la signorina è che praticamente sono contaminazioni in laboratorio, cioè facendo le analisi si sono fatti dei falsi positivi, cioè praticamente dei campioni che erano sani sono risultati infetti perché durante le manipolazioni i laboratori si sono contaminati. E questo è assolutamente non vero. Era questo il problema che lei denunciava? Sì? Ma la... Sì, sì. Sì, sì, era questo il problema, nel senso che appunto lo scrivono nei reporti commissari europei, quindi... Ma esatto, il professore le ha dato la risposta che cercava, cerchiamo di capirci, insomma, di essere chiari, almeno fra di noi. Non lo so, perché non pubblicano i dati. Noi, per fortuna, devo dire, che vengono i commissari europei, quindi sul sito della Commissione riusciamo a sapere come stanno realmente le cose. Ripeto, a noi è arrivato un documento ufficioso redatto alla Tortoessa per Coco, dove si dice che su 16.000 campioni 99 presentano il batterio, gli altri no. Per il resto, dalla Regione, sappiamo poco e niente. Torno a ripetere, si tratta di campioni che sono stati presi... Che riguardano un'altra zona, non la vostra. No, piante apparentemente sane, d'accordo? E allora, nelle piante apparentemente sane, una piccolissima percentuale e poi risulta infette, perché i sintomi non si vedono ancora. Ma torno a ripetere, se noi andiamo sulle piante con sintomi, il 100% è attaccato. Ecco, voi come cura, che cosa state provando dalle parti vostre? Che cosa si sta facendo realmente per tentare di arginare il fenomeno xylella? Veramente noi siamo stati i primi a commissionare già una ricerca scientifica a Laura Mugnai, stiamo parlando dei gergofili. Quindi, in quella ricerca scientifica si evince sì che c'è la presenza del batterio, ma c'è la presenza di alcuni funghi patogeni per l'olivo. Cioè, quindi, praticamente, come diceva Laura Mugnai, come ancora oggi afferma, la presenza del batterio non è ancora determinata la patogenicità del batterio, perché ci vogliono i testi di patogenicità che non sono ancora stati fatti. Cioè, quindi, stiamo parlando di una presenza del batterio che potrebbe essere endemica, così com'è asintomatica in Iran e in Libano. Quindi, qui si sta dando per certa che la presenza del batterio è la causa. Potrebbe anche non essere la causa. Attenzione, noi non diciamo sì o no è il batterio che determina l'essiccamento. Abbiamo detto, fin dall'inizio, apriamo la ricerca a 360 gradi e non alla sola Università di Bari e CNR. Poi, non contenti, abbiamo fatto i primi esperimenti empirici sul territorio. Abbiamo curato le piante secondo le tradizioni dei nostri avi, disinfettando le piante con la solida bottiglia botolese, distribuendo del prodotto a base di aglio sulle radici. Aglio e che cosa? Calce anche e rame? Calce, rame, abbiamo disinfettato il terreno, abbiamo dato sostanza organica al terreno, perché le analisi del terreno parlano chiaro. Cioè, praticamente, i terreni non vedono più sostanza organica da ormai 50 anni. Quindi, abbiamo dato la forza alla pianta in modo che la pianta possa reagire. Quindi, la pianta ha reagito. Io inviterei il professor Martelli a venire qui da noi, come è venuto tra l'altro Donato Boscia, il professor Donato Boscia, come sono venuti i rappresentanti istituzionali. Qui è venuto Dario Stefano, è venuto Michele Emiliano. Quindi, a fargli vedere, perché noi abbiamo lanciato un allarme, abbiamo detto a tutti, venite a vedere queste sperimentazioni che abbiamo condotto. Sono, tra l'altro, in zona Focolaio. Questi alberi hanno reagito, e non si parla più di un ettoro, ma si parla di cinque ettari che hanno reagito, dove non c'è il segno minimo di una foglia seccata dopo l'abolizia delle piante. Quindi, noi, quello che chiediamo è di investire i fondi per la sperimentazione empirica. Perché, ripeto, lo dice Laura Mugnai, non ci sono i test di patogenicità. Quindi, nessuno, nessuno può dire che è la xylella che scatena questo essiccamento. E lo dice anche il batteriologo. Lo dice Giuseppe Surico. Stiamo parlando di batteri, stiamo parlando di un batteriologo. Bene, sentiamo il virologo. Professor Martelli, lei condivide questa impostazione? Allora, assolutamente no. Purtroppo, perché stanno dicendo cose molto diverse dalla realtà e dalla verità. Mi dispiace per le cose che vengono dette e che tirano in ballo dai colleghi, i quali vivono a Firenze e non conoscono il problema. Quello che dice la dottoressa Mugnai, o il professor S. Mugnai, è verissimo. Però, se loro avessero avuto la bontà di leggere quello che è stato scritto ad ottobre del 2013, c'è una nota firmata anche dal professor Nigro, in cui dice di avere trovato i funghi di cui parla anche la professoressa Mugnai. E se leggessero quello che ho scritto io, sulla stampa per esempio, sulla rivista di frutticoltura, e in un'altra nota che sta avvenendo fuori adesso sulla protezione delle culture, si dice che cosa? Che i funghi potrebbero avere un effetto aggravatore. Cioè, la combinazione del batterio e dei funghi può essere ancora più pericolosa e può essere ancora più danneggiante. Però i funghi da soli, nel modo più assoluto, non producono questi danni. E chiunque... Prego? L'azione da sola? Adesso arrivo, arrivo anche qua, arrivo. I commissari europei nel report invece scrivono che quei funghi da soli causano gli essiccamenti. E lo scrivono sempre in quel report pubblicato sul sito della Commissione europea, eh? Ma chi lo scrive questo? Abbia pazienza. Allora, questi funghi provocano... I commissari che sono venuti a febbraio dell'anno scorso? No, boh, lasciamo... Non ci troviamo. Lasciamo perdere. Allora... Deve leggere il report? No, guardi, abbia pazienza. I commissari sono tornati adesso, non più di una quindicina, di venticinque, una ventina di giorni fa. Quindi lega quel report poi, per favore, e allora si potrà documentare meglio. Primo, per quanto riguarda, adesso, il signore del San Nicola dice, non sono stati soddisfatti i postulati di Koch. Cosa dicono i postulati di Koch? Primo, costante associazione tra la malattia e il patogeno. E questa purtroppo, mi dispiace per loro, ma c'è. Secondo, isolamento in coltura del patogeno e questo è stato fatto. Terzo, inoculazione del patogeno nell'ospite e riproduzione dei sintomi. È stata fatta la prima parte, cioè la inoculazione che è stata positiva perché abbiamo inoculato l'olivo, è vero. E poi, reisolamento, per quanto riguarda i sintomi, dobbiamo ancora aspettare. E poi, il quarto postulato che dice, reisolamento del patogeno e paragone con quello inoculato. Questo è stato fatto. Quindi, dai quattro postulati dicendo, abbiamo soddisfatto il primo e il secondo, il terzo a metà. Lo stiamo aspettando. Dobbiamo aspettare, ed il quarto. Quindi, non è vero quello che viene detto. Ma, professore, lei come spiega il fatto che con il trattamento all'antica, definiamolo così, con il sistema organico... Allora, io vorrei vedere queste piante e vorrei aspettare... Allora, risponda all'invito che le hanno rivolto. Però le ha viste Boscia, il quale mi ha detto, francamente, di non essere molto convinto. Comunque sia, vorrei vedere queste piante e vorrei aspettare l'estate prossima. Boscia è venuto un anno fa, eh. E vorrei aspettare, e vorrei aspettare, vorrei aspettare... Allora, professore, noi dobbiamo... Noi dobbiamo... Posso aggiungere una cosa? Sì, dobbiamo concludere. Intanto, lei può dirci, se va a San Nicolo, se va a San Nicolo, se va a San Nicolo, se va a San Nicolo. No, velocissimamente. Non c'è dubbio che le piante in buone condizioni possano effettivamente reagire meglio. Allora, io mi sono sempre domandato cosa sarebbe successo se la Xylella, invece di arrivare nel Salento, se fosse arrivata in terra di Bari. Non sarebbe mai arrivata. Come non è arrivata? Per le condizioni climatici. E quindi dobbiamo porci anche un altro aspetto. Chi l'ha detto che non sarebbe mai arrivata? No, non ha provocato effetti, scuso, corrego il termine. Allora, poteva arrivare, d'accordo? E se fosse arrivata, con ogni probabilità, avrebbe infettato l'olivo. Però sono convinto che in questa zona, in terra di Bari, non ci sarebbero stati gli effetti così devastanti come ci sono stati in Salento. Perché? D'accordo, perché le piante sono meglio curate, perché si tratta di un'agricoltura molto più, diciamo, uso il termine, curata di quanto non sia parte perlomeno dell'agricoltura del Salento. D'accordo? Non si possono potare le piante ogni 3-5 anni, non si possono praticamente non fare i trattamenti, non si può aspettare che olive cadano a terra per raccoglierle, non si possono fare concimazioni, non si possono non fare tutte le cose che sono state fatte o che sono fatte in molti. Questo spiega perché non ritorno all'agricoltura di una volta, all'organico può aver... Per tornare alle buone pratiche e compagnia bella. Per cui, questo è vero, però, che le buone pratiche culturali praticamente non credono i problemi che ci sono. Beh, questa è una cosa alla quale mi posso permettere di dire, di non credere, perché non penso che sia possibile. Comunque, andrò a vedere queste piante. Ruggero, lei era un po' in disaccordo? No, sono in disaccordo perché siamo all'assurdo. Gli amici della cooperativa San Nicolese chiedono una cosa, ormai sono passati due anni abbondanti, chiedono informazione, coinvolgimento, prove. Prima di togliere una pianta di olivo, perché si era partito, ricordiamo, Magistà, spiantiamo senza avere ancora dati. Poi sono stati fatti i report, tutti questi aspetti. La Commissione Europea è vero, c'è quel documento, dopo glielo do, fa la sintesi dei primi elementi e dice, attenti, 1750 in quella situazione, piante analizzate, sono 21 presenze, non si sa quello che sta succedendo. Siamo ancora a Brancoliamo nel buio, prima di spiantiamo. Io sono un uomo semplice, nella mia azienda c'è un giardino, ma come tante aziende pugliesi. Quando a San Nicola si dice, ripartiamo le buone pratiche, parte da quello che l'ediettore conosce bene. Quando abbiamo fatto la riforma dell'Ocm Olio, c'erano due obblighi per gli agricoltori. Il mantenimento degli oliveti in buona salute e le minime pratiche culturali. Siccome stiamo in una cultura di emergenza, prima facciamo che non è quella romana, è una cultura di emergenza molto pugliese, l'obbligo di fare le manutenzioni degli oliveti è per tutti e c'è. L'obbligo di estirpare le erbacce c'è, per obbligo, per percepire gli aiuti. Se invece di perdere due anni ancora mentre facciamo queste cose, avessimo già applicato quello che la legge dice e avessimo fatto quattro manifesti, dicendo tutti dovete farlo, se non lo facciamo andiamo i servizi pubblici, avremmo creato occupazione, avremmo reinvestito soldi, avremmo tolto tutte le erbacce e tutte le infestanti che creano l'humus in cui l'elemento, l'animale che porta il virus si alimenta. Avremmo già sradicato invece di mettere l'emergenza, ciò che dobbiamo fare come Ebola, togliere le popolazioni, disinfettare quando siccome il terreno è tutto di tanti piccoli produttori, ognuno ha l'obbligo, lo aveva già in passato, facciamo fine non vederlo, ha l'obbligo di fare le mie imparie culturali, metto i 10 ispettori da forestale invece di perdere tutto questo tempo a vedere chi lo fa e chi non lo fa, chi non lo fa gli tolgo l'integrazione e gli mando i lavoratori socialmente utili a fare quelle attività. Avremmo tolto il 90% dell'humus in cui si alimenta questo batterio. tolto questo poi facciamo le buone pratiche culturali, io faccio l'ovicoltore, le mie piante se stanno bene come quando arriva il raffreddore, arriva il virus del raffreddore, Enzo Magistano non si ammala, io mi ammala, se stai bene, se sei forte, se ti custodisci un po' come diceva la nonna, è più difficile che ti venga la malattia. Quindi noi stiamo creando un fenomeno che danneggia tutti, l'immagine del virus in Puglia sta danneggiando commercialmente tutti e stiamo ancora parlando dopo due anni invece di dire che cosa dobbiamo fare? Non ti aspettiamo prima di capire e poi facciamo l'ordinario. San Nicola fa questo. Ok, abbastanza chiaro. Chiudiamo con San Nicola, mi pare che alla fine voi non solo ci state rimettendo gli olivi ci state rimettendo l'olio, ci state rimettendo anche la reputazione perché mi pare che la colpa sta emergendo, che la colpa addirittura è vostra. Praticamente ci hanno scambiati come dei lebrosi, cioè praticamente questa cattiva informazione è passata sui mercati come provincia di Lecce, sud Salento, lebrosi, come se avessimo l'ebola. Quindi noi ribadiamo e sono contento che Nicola Ruggero, il presidente dei consorsi dei frantoiani italiani, prenda atto e quindi riconosca le buone pratiche agricole, riconosca che l'integrazione va tolta a chi non cura gli oliveti e quindi ritornare ad un'agricoltura forse più sana. Noi abbiamo spesso e volentieri, abbiamo fatto una constatazione sui nostri olivi. I nostri olivi come delle persone, se noi abbiamo delle difese immunitarie molto basse quindi facilmente ci ammaliamo. I nostri alberi hanno le difese immunitarie basse, quindi hanno bisogno di sostanza organica che ormai non vedono dal dopo guerra. Ma in sostanza come replicate all'accusa che vi hanno mosso, quello forse di non aver curato abbastanza i vostri olivi come qualcun altro forse avrebbe fatto il riferimento alla provincia di Bari dove è stato detto che se fosse arrivata l'axilella non avrebbe causato certo i danni che sono stati causati qui nel Salento. Brevemente, presidente, a chiudere. No, comunque io dico soltanto una cosa. Sono rimasto deluso da questa affermazione fatta dal dottor Martelli perché comunque io credo che non è il Salento dove effettivamente debba essere presa, come devo dire, la parte infetta della situazione. È un problema che la cura, come è stata fatta nella regione di Bari. I nostri agricoltori con passione con cura curano queste piante e non si tratta di curarle bene a Bari e curarle male qua perché questo certamente è un problema grosso di una calamità naturale dove effettivamente l'agricoltore oggi si trova in ginocchio e marturiarlo ancora e dandogli la possibilità o di sentirsi lo scupo di non aver curato bene le piante, ma è questo un discorso che certamente va un pochettino messo nel giusto. Grazie, grazie Stefania. Abbiamo, siete stati abbastanza chiari, solo per diritto di replica, visto che, professore, brevemente perché siamo... Vorrei chiedere a questi signori, ma gli alberi nel Salento muoiono o no? Credo che non ci abbiano più sentiti perché avevamo interrotto... No, gli interventi si fanno, non è che non si fanno, non è che si abbandonano e si lasciano alla propria... La domanda, Stefania, era ma gli alberi muoiono oppure no? C'è, qua, forse, non so... No, attenzione, attenzione, attenzione. Alberi morti fino alla radice, non ce ne sono. Cioè, alberi morti, io sfido il dottor Martelli, allora venga qui con noi e le facciamo vedere. Gli alberi dove, tra l'altro, nella zona castellana addirittura, gli alberi rispuntano o alla base o in altezza. Cioè, praticamente, su quei polloni dove l'albero ha la forza di reagire sull'unico pollone, l'albero è ancora verde. Cioè, sotto la corteccia, l'albero è verde. Alberi morti totalmente non ce ne sono. Ok? Bene, grazie, grazie. Il professore, vi dico, non è d'accordo, però allora, siccome voi lo avete invitato, preghiamo anche noi, invitiamo anche noi, il professor Martelli, a recarsi nel Salento da questi signori della cooperativa di San Nicola e dichiarirsi direttamente con loro. È un problema non solo vostro, è un problema che ci riguarda tutti, che riguarda tutti i pugliesi e tutti quelli che hanno a cuore le sorti dei nostri ulivi, delle nostre olive, del nostro olio, della nostra economia. Buonasera.